Il obiettivo della nostra scuola è permesso a tutti di essere lui stesso. Ho cercato molti anni, ho conosciuto molti maestri e ora ho cercato di trasmettere, di trasmettere a voi ciò che ho imparato. Il obiettivo della nostra scuola è un obiettivo. Se hai una mente aperta, non venite alla nostra scuola. Ma se sei un personaggio aperto, se sei un personaggio che cercano, la nostra scuola è il migliore per voi venire. Grazie per la visione! Grazie per la visione!